Trasporto pubblico per i giovani e per gli universitari, tre temi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi. Una mozione che vede come primo firmatario il consigliere Lorenzo Rotellini, ma firmata da tutta l'opposizione, chiede al Comune di obbligare l'AMA, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale, a istituire corse notturne almeno il giovedì e il sabato per l'estate, ma anche a prolungare le corse feriali che collegano Scienze Umane e le biblioteche, sino a mezzanotte. La mozione chiede anche riunioni a cadenza mensile del tavolo di confronto tra AMA, Comune e studenti sulla questione trasporti per discutere un piano tarifario agevolato per studenti e studentesse. A seguito delle classifiche census che sono uscite su tutti i giornali nelle settimane scorse, vediamo proprio come l'Università dell'Aquila ha difficoltà nella parte dei servizi, che non è proprio di stretta competenza, ma è di competenza appunto della politica, quindi del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo. Quindi credo sia giusto e doveroso mettere mano anche al trasporto pubblico, come succede in tutte quante le città universitarie, e ripristinare le corse notturne non solamente per il periodo estivo, ma anche per tutto il periodo universitario, soprattutto per collegare anche le biblioteche che rimangono aperte fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, per dare la possibilità agli studenti universitari di poter studiare magari non a casa, di confrontarsi con altri studenti. Uno dei temi trattati è stato anche quello della sicurezza digitale e dell'educazione finanziaria, con un ordine del giorno dei consiglieri Vittorini e Maccarrone, che chiedono l'istituzione di uno sportello apposito. Il presidente del Consiglio Comunale, ad inizio Consiglio, Roberto Sant'Angelo, ha pure consegnato un riconoscimento a Nello Scipioni per i 50 anni della fondazione del centro abruzzese canadese, ma non solo, un personaggio originario della frazione di Camarda, che ha fatto fortuna in Canada. Nello Scipioni è nato a Camarda, in una frazione dell'Aquila, nel 1967 è emigrato, è stato un grande manager, è stato riconosciuto come manager dell'anno della comunità degli italiani di Ottawa, e dopo il terremoto del 2009 lui si è prodigato per gli aiuti anche economici alla nostra comunità. Lui è il promotore della realizzazione del centro polifunzionale di Camarda, un centro di aggregazione che oggi fa vivere l'intera frazione, è stato il promotore di un contributo importante del centro sperimentale di cimeleografia e recentemente la comunità di Ottawa, da lui guidata, ha dato un contributo per realizzare il centro parrocchiale di Canzatessa. Quindi non solo una vicinanza dopo il terremoto, ma una vicinanza costante alla città natale dell'Aquila, a testimoniare che le radici non si sono mai interrotte, questo filo conduttore non si è mai interrotto, e il Consiglio Comunale oggi dice grazie ad una personalità che porta lustro il nome della nostra città nel mondo.